Buona serata e buon viaggio ancora dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Incidente segnalato in A11 all'uscita di Prato Est. Materiali dispersi, una perdita accidentale in A1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Prudenza per nebbia a banchi segnalata appunto in A1 tra Rioveggio e Daglio. Per quanto riguarda i treni, le avverse condizioni meteo di oggi non hanno permesso la percorrenza sulla linea Siena-Grosseto che è stata interrotta. Lavori a Firenze e da lunedì 12 dicembre è in programma la realizzazione della rotatoria nell'area di intersezione tra via Maccio da Montelupo e il viadotto dell'Indiano previsti restringimenti di carreggiata. Ed è tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Buon viaggio!